Rivoluzione a Cadimare ha poco più di un mese dal Palio. La regina delle Borgate, delusa per i risultati, sbarca i due centrali. Niente Palio per i cadamotti Alfredo Tacci e Mirko Lubrano. Al loro posto il campione Giuseppe Liberatore, otto volte vincitore alla Morin, e Daniele Zampieri, detto Muma, che ha vinto tre pali e che già era alla riserva del Cadimare. Il nuovo equipaggio è stato avvistato in mare nei giorni scorsi dagli avversari, a bordo del barchino d'appoggio insieme all'allenatore Samuel Ferragina, il recordman del Palio Paolo Lavalle, 11 volte vincitore e due volte da allenatore. Giacomo Mori e Diego D'Imporzano, a bordo del favorito armo del Fezzano, si scontreranno quindi con gli ex compagni Liberatore e Zampieri, con cui hanno più volte vinto insieme. E da una parte ci sarà quindi il campione del mondo, Luca Cavallini, imbattuto sia da avvogatore che da allenatore, e dall'altra l'imperatore del Palio, Paolo Lavalle. Che la stagione del Cadimare non fosse tra le migliori era noto a tutti e alla base di tale cambiamenti ci sarebbero state delle incomprensioni caratteriali a bordo che la società ha tentato in vano di mediare. La decisione di sbarcare Tacci e Lubrano è stata definita quasi una scelta obbligata, maturata a seguito di una riunione che si è svolta il venerdì sera prima della gara di casa. Purtroppo però i due vogatori sono rimasti a terra, superato il termine ultimo per poter essere tesserati da un'altra borgata, non potendo così partecipare al Palio del Golfo dopo un anno di sacrifici e allenamenti. La società Cadamota si sarebbe già resa disponibile a cedere i cartellini agli atleti esclusi e come già comunicato alla Lega Canotaggio ha chiesto che Tacci e Lubrano possano inserirsi in altri equipaggi. Vere e proprie acque agitate nel Palio del Golfo ma i rumors non finiscono qui, più di una borgata avrebbe infatti avvistato il Fezzano alternare sulla prua l'attuale d'Imporzano a un altro atleta proveniente dal sedile mobile detto Teddy. La dirigenza Fezzanotta ha però specificato di non avere alcuna intenzione di sbarcare nessuno e al di là delle volontà rimane comunque da capire se l'equipaggio del Fezzano che finora ha vinto tutte le gare a cui ha preso parte sarà effettivamente quello che parteciperà al Palio o se potrebbero esserci degli stravolgimenti anche a casa degli squali.